Costa Crociere, questo pomeriggio, ci vuole raccontare il suo nuovo progetto di felicità. Il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba. Neil, come stai? Ognuno di noi vive la felicità in un modo diverso e quest'anno abbiamo completato tantissime interviste, ricerche di mercato per trovare la formula giusta per moltiplicare questa felicità. Quando andiamo in vacanza ognuno di noi fa compromessi, facciamo cose che magari non ci fa piacere fare. I nostri cari fanno delle cose che a loro non fa piacere fare. E vedere la felicità riflessa negli occhi dei nostri cari automaticamente, magicamente, ci dà la possibilità di moltiplicare la nostra felicità. Questo è il segreto della felicità al quadrato. Signori e signori, Bruno Barbieri. La mia storia, la mia carriera incomincia proprio sulle navi da crociera e ritornarci da protagonista firmando il menù di gala. È un'emozione per un cuoco e per una persona che ha avuto una grande passione per il mare e una grande passione per le navi. Quindi le escursioni che abbiamo scelto per gli escursionisti della crociera convinceranno le persone che vengono a bordo a scendere e andare a vedere il mondo. Perché succede questo, che la gente quando sta sulla nave c'è di tutto, è un mondo lì dentro. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Sostengono gli eroi Sul gioco si fa dura da giocare Sono Peppa Pig, ciao! Volevo vedere una nave grande grande Io sono stata solo sulla nave di nonno Pig Vice Presidente Marketing Luca Cassaura Salire su questo palco così ce li spiega meglio lui Grazie Le novità sono tantissime, quindi la campagna sarà abbastanza imponente e anche originale devo dire Innanzitutto ci sarà un film dedicato, una pubblicità dedicata a ciascuna delle novità che avete visto oggi per raccontare la felicità al quadrato a 360 gradi Abbiamo pensato che avevamo bisogno di un testimonial d'eccezione E quindi un'altra star Un'altra star Benvenuti alla felicità al quadrato Un personaggio che secondo noi incarna molto bene questo concetto È una persona felice Con una bellissima famiglia Una vita professionale fantastica E sicuramente quindi rappresenta bene questo concetto Buongiorno a tutti Grazie.